Domenica di festa al quadrato per le due portacolori vicentine di serie C, vettrina per una volta per l'Arzignano Valchiampo che mette a frutto la serzata decisa dal club con il cambio di guida tecnica conquistando ieri la salvezza diretta in serie C, obiettivo stagionale. Raggiunto su Spondalane proprio quando ormai ci si stava rassegnando al K.O. con l'Alessandria e soprattutto all'interruzione della striscia di risultati utili ecco che arriva il gol che non ti aspetti firmato dal 19enne Busato eppure il ribaltone nel recupero su calcio di rigore realizzato dal puntero Ferrari al 95esimo. Curiosità della Domenica in gol Busato per i piemontesi, un ex bianco-rosso Busato per i vicentini, di certo perdere all'ultima di campionato in casa dell'ultima in classifica e già da tempo retrocessa non sarebbe stato un buon biglietto da visita in ottica playoff. Niente curiosità ma solo certezze assolute dallo stadio Dal Molin di Arzignano dove l'1-1 con gli orobici dell'Atlanta Junior consente di mantenere il margine di regolamento per scansare la post-season. Bastava un punto e così è stato, il sedicesimo posto vale sì la quintultima piazza ma la Pro Sesto è sotto di 9 punti, quanto basta per annullare gli spareggi come da regola premiando i giallo celesti di Bentivoglio. Grazie a tutti!